Ops a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger del calendario dell'avvento numero 3. Quindi che cosa ci sarà oggi, 3 dicembre? Lo scoprirete solo guardando il video. Quindi mi raccomando, indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiedete gli occhi, va bene? E io comincio con questo video. Cosa ho scelto per oggi? Per oggi ho preso due tastiere diverse, una è questa qua. E una è questa qua. Quindi farò un po' con questa e un po' con questa qua, va bene? Quindi cominciamo con questa più piccola. Questa è un po' con questa qua. Questa è un po' con questa qua. Questa è un po' con questa qua. Adesso prendo l'altra. Questa è un po' con questa qua. Grazie. Grazie. Sì, cucù, cucù, ora tocca a voi, iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OOPSine mentre se siete delle femminucce diventare le mie OOPSine. Poi lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e commenta qua sotto tutto quello che ti fa sapere la testa, va bene? Il video di oggi finisce qua ma se voi volete potete restare ancora insieme a me perché ora vi lascio di qua il video di ieri del 2 dicembre, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vogliate, ok? Quindi buonanotte, buonanotte e noi ci vediamo domani, ok?